ciao sono ambrogio grillo sales manager di scott italia per il marchio auto research e oggi vorrei parlarvi del lucent heated gloves il nostro guanto riscaldato che è stato introdotto per questo nuovo inverno 2017 2018 si tratta di un guanto disegnato per lo sci pensato per le giornate neve fresca con temperature molto basse alla particolarità di avere un sistema di illuminazione di riscaldamento su tre posizioni che viene azionato da questa da questo pulsante di comodo accesso sulla ghetta che premuto indica tramite il colore l'intensità del calore quindi molto caldo che significa che a meno 20 gradi porta la temperatura del guanto intorno ai 15 16 gradi medio a meno 10 gradi arriva ai 15 16 gradi basso che a 0 gradi porta la temperatura intorno ai 15 gradi il guanto funziona con una sistema di serpentine che rispetto a molti guanti della concorrenza è presente sia sul dorso che sul palmo della mano e arriva anche all'imbocco della parte delle dita e azionato da un sistema di batterie con un comodo accesso che sono ricaricabili in quattro ore e possono essere anche acquistate separatamente per aumentare la durata a livello di durata di riscaldamento possiamo dire che in alta temperatura quindi nella versione più calda il guanto garantisce quattro ore di calore che possono arrivare fino alle 12 nella versione più bassa a livello di costruzione ci sono tutte le feature che troviamo nei guanti di outdoor research il che significa un disegno 3d una costruzione in gorotex e con interno interno in enduro loft è disponibile anche nella versione moffola ed è il guanto adatto a chi affronta lo sci dalla gita della domenica alle discese più estreme e vuole avere sempre le mani con la temperatura ottimale grazie per l'attenzione ci vediamo sulle montagne ciao ciao ciao